La foto di Antonio Cassanova che negli anni 60 offre dal bancone del suo negozio di frutta in via l'Italia, in via d'Orso, le fette di anguria e i militari della caserma Berardi rappresenta un pezzo di storia forse irripetibile della nostra città. Tradizione e memoria in 75 anni oltre di lavoro che animano la resistenza dei nipoti Antonio che insieme ai genitori Pasquale e Glioli ha portato avanti con impegno e sacrifici l'attività di famiglie. Dopo tanti anni anche una pagina di storia del commercio velinese rischia di sparire travolta dal caro bollette e la crisi energetica un'emergenza sociale che ha già messo alle corde numerosi artigiani, commercianti e imprenditori irpini. Giovedì alle 16, come leggiamo dai volantini affissi dai negozianti di via l'Italia, è stata fissata una riunione nel piazzale della chiesa di San Ciro per definire le iniziative di protesta da intraprendere, una serata di sala cinesca che rischia di non essere solo simbolica. Bertantonio Cassanova. Sì, io faccio un appello a tutti i commercianti di Avellino, ma anche al popolo di Avellino. Quando più ne siamo meglio è, visto che non si può campare più. Non ce la facciamo nemmeno a pagare la luce, è più gratuito i tasse. Cioè siamo proprio in ginocchio, siamo ai piedi di Ponzio Prado, dobbiamo stare con le luci spente. L'iniziativa potrebbe essere quella di una serrata simbolica di abbassare le sala cinesche dei negozi. Non simbolica, una serrata davvero. Io ho il magazzino di mia mamma, ma non riuscimmo a pagare, non riuscimmo a fare niente più, niente in assoluto. Tra l'altro il suo è un negozio di frutta storico. Storico, uno dei più storici di Avellino. Potreste anche decidere di chiudere dopo tanti anni di sacrifici? Può darsi, più che chiudiamo che siamo aperti, se no vediamo che dobbiamo fare. Quindi è un appello a tutto Avellino e a tutti i commercianti di Avellino, non solo via l'Italia. Io penso che saremo tanti davanti alla chiesa di San Ciro a dire la nostra. E poi per decidere il da farsi.